Ha da poco fatto il ritorno dal Portogallo dove, con la nazionale italiana Under 17, ha ottenuto la qualificazione ai prossimi campionati europei di pallavolo. Emma Barbero, libero delle azzurrine della Volley Academy Piacenza, è stata l'ospite d'onore della puntata di ieri sera di Zona Sport. Classe 2004, originaria di Asti, ma piacentina d'adozione, ha raccontato al giornalista Marcello Tassi la sua recente avventura in nazionale. Sono stati cinque giorni molto intensi, i primi tre abbiamo fatto il girone di qualificazione contro la prima partita contro il Belgio, poi Francia e Germania. E poi abbiamo fatto la semifinale, essendo le prime del girone abbiamo scontrato la seconda dell'altro girone contro la Spagna. E poi abbiamo vinto anche lì 3-0, abbiamo fatto la finale contro l'Olanda. Gli europei quando ci saranno? Dall'1 all'8 agosto in Montenegro, questa estate quindi, faremo tutta la preparazione durante luglio, giugno-luglio e poi andremo, speriamo di andare, andremo dall'1 agosto, inizieranno. Dopodiché spazio al rugby con i tre quarti dei Lions York in Paz e la terza linea del Piacenza Rugby, Guglielmo Sofo. Finale dedicato al biathlon, disciplina che unisce il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo. In studio è intervenuto Stefano Biazzi, che ha preso parte ai recenti Winter World Masters Games di Innsbruck. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo, come sempre, è una nuova puntata dedicata ai commenti del match del weekend.